La collana ai logografi è una collana di albi illustrati, i cui testi sono scritti partendo da un gioco di parole o da una figura retorica. Ad esempio, nel cerchio colorato, la novità dell'autunno 2020, si usa la figura retorica della rima. Quindi il bambino può leggere la filastrocca, tutta scritta in rima. E poi, come in tutti gli albi illustrati della collana, alla fine viene spiegata, in questo caso, la figura retorica, oppure viene spiegato il gioco di parole utilizzato e si propone al bambino un'attività legata alla figura retorica o al gioco di parole, ma si chiede anche di provare a sperimentarsi nella scrittura di una storia utilizzando la figura retorica protagonista o il gioco di parole. In questo caso si chiede di scrivere una filastrocca in rima. Tutti gli albi della collana ai logografi sono degli albi laboratorio che cercano di stimolare la fantasia del bambino mostrando che scrivere è un'attività divertente, ma possono anche essere utile alle maestre come strumento diverso, nuovo, originale di supporto al lavoro didattico in classe.